è uno dei topic del momento tutti ne parlano ma soprattutto tutti vogliono sentirlo stiamo parlando dell'audio in 8d infatti da qualche settimana sul web stanno girando video e audio in 8d grazie a questa nuova tecnologia lo spettatore sarà ulteriormente immerso nel video creando una vera e propria tridimensionalità sonora forse non lo saprete ma questo effetto è molto semplice e si può applicare in qualsiasi video ora vi spiegheremo come farlo vi basta il vostro pc in qualsiasi programma di montaggio e ovviamente il video con una traccia audio in questo caso utilizzerò final cut pro x e vi ricordo che su questo canale abbiamo un'intera serie di tutorial per utilizzarlo al meglio ma questo effetto si può applicare in qualsiasi programma di montaggio ma non perdiamo tempo e vediamo come fare per prima cosa importiamo la clip con l'audio che vogliamo trasformare in 8d successivamente premiamo sulla clip e poi ci dirigiamo su audio inspector andiamo sulla sottocartella pan e al posto di non scegliamo l'opzione stereo left right rimanendo sempre su audio inspector ci spostiamo sulla timeline all'inizio del video spostiamo il valore di amount a meno 80 e premiamo il bottone sulla destra per aggiungere un keyframe ora con le frecce spostiamoci di 12 frame in avanti e sempre su amount cambiamo il valore da meno 80 a 80 facciamo di nuovo la stessa cosa quindi andiamo avanti di 12 frame e portiamo il valore a meno 80 premendo il tasto destro sulla clip clicchiamo su show audio animation per vedere i singoli keyframe creati per selezionare tutti i keyframe premiamo il tasto shift successivamente la sequenza di tasti option shift c e poi successivamente option shift v per fare copia incolla dei keyframe nel resto della traccia audio ora potete esportare il video premere play e ascoltare il vostro audio in 8d creato in pochi semplici passaggi ovviamente questo semplice ma super efficace effetto può essere applicato su ogni tipo di audio e storizzato nel modo giusto permetterà di dare ai vostri video una profondità in più e lasciare a bocca aperta i vostri follower questo tutorial finisce qua noi vi ringraziamo per aver visto questo video e se vi è stato utile iscrivetevi al canale attivando la campanella in modo tale da rimanere aggiornati su ogni video in uscita grazie a tutti a